e questa era Levanne pour trois, c'ho troppe erre io per parlare in francese, infatti non lo so Noir Desir, la prima scelta del nostro ospite Sasha Naspini, buongiorno Ciao, buongiorno a tutti Buongiorno, benvenuto Ti ringrazio molto per averci fatto riascoltare questa canzone che in assoluto è una delle mie preferite e nonché l'unica che conosco nel Noir Desir quindi proprio io sono l'utente medio da quel punto di vista però invece tu mi dicevi che hai una profonda conoscenza di questo gruppo tanto da aver scritto di loro Sì, nel 2010 penso sia stato l'unico romanzo, romanzo, l'unico progetto editoriale tra virgolette commissionato parlo di Luigi Bernardi che all'epoca dirigeva la collana Rumore Bianco di Perdisa Pop il progetto nacque veramente un po' per caso perché vedeva che dal profilo Facebook pubblicavo di tanto in tanto delle canzoni di Noir Desir e a un certo punto mi mandò un messaggio dicendo ti farebbe voglia di raccontare la storia di questo gruppo? dopo quattro minuti risposi naturalmente sì con il prodotto già pronto magari era il 2002 quando uscì questa canzone e dopo successe il fattaccio cioè l'omicidio da parte del cantante di una donna e quindi Maria Trentiniana esatto e da quel momento ovviamente muore la carriera oltre a lei ovviamente e dicevamo prima che negli ultimi giorni c'è stato un po' una ripresa del discorso perché lui ha fatto delle dichiarazioni riguardo a quell'omicidio veramente così che si potevano tranquillamente evitare proprio sulla dinamica spiacevoli spiacevoli ma probabilmente dettate da un tentativo di autoassoluzione venuto male per cui poi sono riaccese tutte le polemiche questo perché non solo per intanto sottolineare la scelta musicale di Sasha Naspini ma anche un po' per entrare nel suo mondo nel mondo diciamo di ossigeno in particolare che è l'ultimo romanzo quello di cui parleremo oggi maggiormente e ne abbiamo in realtà già parlato perché è stato libro della settimana della puntata 7 di qualche puntata fa ma adesso ora ricordarmi che appunto ha un substrato decisamente crudo e soprattutto inizia proprio con una mega scoperta di un beside di una persona cioè una persona che è un antropologo di fama internazionale padre di famiglia assolutamente pulito nella sua immagine soprattutto agli occhi del figlio che è il primo che parla nella storia che invece si scopre essere lo posso dire perché tanto succede subito si scopre essere un rapitore di ragazzina e di bambine e anche diciamo omicida di alcune bambine e quindi ecco che crollano dei mondi cioè crolla il mondo di questo bambino che è un bambino ragazzo insomma che scopre questa cosa di suo padre e da quel momento ovviamente nulla sarà più lo stesso per lui e poi diciamo Sasha va a raccontare quelli che sono i punti di vista su questa vicenda delle altre persone coinvolte in maniera diretta o tangenziale da questa storia che sono poi una ragazza la ragazza che è stata trovata viva ma che per più tempo è stata prigioniera di questo uomo e la madre e la migliore amica oltre ovviamente al figlio di cui abbiamo detto prima le atmosfere sono decisamente diciamo angoscianti questo ossigeno di cui si parla è un ossigeno che manca perché la ragazza e in generale le ragazzine venivano tenute in questa specie di container esatto che non aveva punti di uscita né di entrata di luce, di aria se non la porta che poi veniva chiusa ermeticamente e quindi poi questa sensazione dell'ossigeno che piano piano viene a mancare anche al lettore stesso che scoprendo cose che questa volta non diremo sente venire a mancare anche i suoi propri punti di riferimento sulla storia ecco secondo me partiamo un po' da questo tu anche nelle case del malcontento che era il libro precedente che come dicevamo prima è veramente molto bello, molto amato avevi questo tipo di... facevi questo gioco cioè dare dei punti di appoggio al lettore e poi toglierglieli in continuazione in modo tale che ci fosse sempre questo senso di scoperta anche per andare avanti, per dare la spinta per scoprire cose nuove come hai proceduto per questo ossigeno? no, questo è... la partenza di ossigeno è proprio individuabile nel primo flash la prima immagine che avevo era proprio questa il romanzo apre con una scena tra padre e figlio a un certo punto bussano alla porta arrivano i carabinieri prendono questo signore e lo portano via Carlo Maria Balestri stimatissimo, pregiatissimo esimio, professore di fama anche internazionale di antropologia si scopre essere un mostro mi viene sempre da dire durante gli incontri le presentazioni che ossigeno in qualche modo comincia dove finisce un thriller un giallo tradizionale non ci sono le indagini non c'è la caccia al mostro non c'è Laura la ragazzina scomparsa a otto anni ritrovata a 22 dopo 14 anni di reclusione viene trovata per caso quindi tutta la zona crime diciamo l'investigazione eccetera è bypassata in bandella è detto ossigeno è la storia di ciò che resta e in realtà un po' questo è il centro del romanzo l'immagine che avevo era quella di Luca il figlio che a 27 anni a quasi 30 anni deve alla luce di questa scoperta deve ricostruire si ritrova a ricostruire a riinterpretare tutto un alfabeto un algebra anteriore scusate appunto la luce di questa scoperta il Balestri è un padre molto affettuoso è un padre modello sotto tanti punti di vista è un l'unico riferimento per Luca tra le altre cose lui e il figlio hanno trascorso passato ecco un momento di lutto importante la morte della madre di Luca quindi la moglie del Balestri il Balestri è un rapporto quindi anche che si è stretto in questo passaggio in questo lago di dolore il Balestri è un padre ripeto affettuoso che ha guidato consigliato vestito seguito cogenerato questo insomma un riferimento sotto tutti i punti di vista Luca addirittura ha intrapreso gli stessi gli stessi studi cerca gli assomiglia fisicamente all'improvviso questa notizia lo porta specialmente nell'apertura del romanzo a fare una sorta di ricognizione interiore lui è accolto da flash da raptus furiosi in cui ripercorre i natali le pasque i compleanni i momenti anche banali di un'esistenza tranquilla ecco però alla luce di questa notizia tutto assume un profilo contorni mostruosi nel momento in cui Laura viene ritrovata e esce dal container in qualche modo in quel container in quel cassone di ferro ci finisce lui e con lui tanti altri la prima immagine era questa la seconda immagine che viene portata poi nel romanzo è la ricognizione invece di Laura l'avventura di Laura all'interno del container lo dico subito non è un romanzo che tocca diciamo corde da splattero no non c'è neanche violenza espressa il Carlo Maria Balestri non tocca mai la ragazza non le rivolge mai la parola in 14 anni le morti sono avvenute precedentemente sono avvenute per causa tra virgolette di forza maggiore non è lui che uccide a un certo punto tant'è vero che lei a 22 anni viene trovata appunto per caso ancora viva vegeta al compimento diciamo del tra virgolette l'esperimento del Carlo Maria Balestri e poi la terza corda importante mi piaceva toccare forse quella che mi è più vicina perché è stato il momento probabilmente più difficile da provare a trasferire in pagina era il ritorno di Laura e quindi vista dalla prospettiva della mamma cosa succede nella vita di una persona che si vede sparire una ragazzina a otto anni una figlia non c'è nemmeno un corpo da piangere che a un certo punto ti viene riportata a casa all'inizio del libro c'è qualcuno che bussa la porta prende una persona e la porta via a un certo punto del libro bussano la porta e portano una persona la riportano a casa Anna ha di fronte questa ragazza di 22 anni e ha un po' l'impressione di trovarsi di fronte a un alieno è come se le avessero preso la figlia portata su Alfa Centauri smontata vivisezionata studiata rimontata forse un po' a caso e da lì poi ci sono tutta un'altra serie di storie che vanno a concluire tra l'altro mentre parlavi mi è venuta in mente la trama di un telefilm che io ho molto amato di una serie che io ho molto amato ma che hanno cancellato che si chiama The OA che non so se tu hai mai visto sì sì certo e ha esattamente cioè poi vabbè lì succedono delle cose che non c'entrano che sfiorano diciamo il paranormale però l'inizio è esattamente questo cioè lei questa ragazza che insomma i tempi sono un po' diversi perché lei quando sparisce non è una bambina ma è un po' più grande però sono passati degli anni e a un certo punto torna a casa diversa molto diversa anche perché quando è stata rapita era cieca e quando torna invece non lo è più ci vede però insomma era proprio una dinamica che in questo momento mi è venuta in mente di colpo e penso non so quanti lei è anche la scena è già lì c'era l'altro ha scritto tutto è molto bravo in the art peccato che l'hanno l'hanno segato questa serie non si è capito perché mi hanno lasciato anche c'è il famoso celino in mano perché la seconda serie finiva in un celino vabbè peccato comunque andiamo avanti con le scelte musicali e poi continuiamo a parlare con Sasha Naspini farei un'alternanza in brani internazionali e brani italiani assolutamente vedo ho digitato Siberia e la prima cosa che mi viene è non riesco a respirare che non è il brano che hai scelto tu ma è l'ultimo brano dei Siberia l'ultimo singolo dei Siberia che che tra le altre cose oggi proprio oggi se non mi sbaglio faccio un piccolo spot sono dei ragazzi bravi sono ragazzi a mio avviso naturalmente escono oggi con il nuovo album mentre noi ci sentiamo da si vuole scappare del 2018 l'epica epica del dolore voglio un'epica del dolore epica del dolore questi sono in Siberia la seconda scelta del nostro ospite Sasha Naspini con cui stiamo parlando di ossigeno pubblicato da edizioni EO ci stavi raccontando insomma che questa è una sono tutte scelte di cuore le tue no? insomma però questa in particolare perché proprio questa canzone perché ti piace o ti piacciono loro? sicuramente mi piace mi piace mi piace il progetto che stanno portando avanti sono curioso di ascoltare il nuovo disco perché a quanto ho capito sono stati prodotti in questo caso da una major come dicono ne credo vero in gergo che poi è forse l'unica italiana grande grande quindi sai il passaggio alle grandi spesso porta mi capita di vedere da fruitore della musica a dei compromessi quindi sono curioso ancora non l'ho ascoltato torniamo alla storia torniamo a ossigeno quello che non so se c'è o se tu vuoi trovare o se io stesso ho voluto trovare una specie di linea di continuità diciamo nello stile nel modo rispetto alle case del malcontento sono due libri completamente diversi totalmente un po' anche nel modo in cui la storia viene condotta innanzitutto perché nelle case del malcontento ci sono tantissimi personaggi sono tanti personaggi ognuno racconta una storia che è la propria storia ma che confluisce nella storia di una comunità in qualche modo che è quella delle case di questo paese però questa pluralità un po' rimane nel senso che tu prendere diciamo parlare da un punto di vista unico evidentemente è una cosa che non ti piace forse ti sembra riduttiva rispetto alla complessità della realtà un po' ci sta le vicende sono sempre tutto è personale ognuno ha sempre un proprio modo di vivere una storia che può essere per esempio nelle case del malcontento in alcuni casi completamente diverso l'uno dall'altro e anche qui c'era molto anche nelle case del malcontento c'era molto il discorso del segreto o del qualcosa di nascosto possibilmente molto crudele che veniva fuori o che non non veniva mai fuori che però insomma sapevamo esserci nelle persone quindi un lato un lato A e un lato B per tornare al al modello musicale e come come è stato il passaggio dall'uno all'altro avevi già iniziato a scrivere l'ossigeno oppure è venuto proprio dopo allora sì innanzitutto vedo che tra le altre cose hai una prima bozza delle case sì 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 mi è stato lanciato a un più libri più liberi o a un salone non ricordo più libri più libri erano più libri dicendo questo lo devi leggere perché è pazzesco poi me lo fai mi fai sapere infatti ecco i risultati hai creato grazie Simona della EO Simona Livito grandissimo sì le differenze sono enormi ci sono dei mari tra le case del malcontento e l'ossigeno banalizzandolo molto le case del malcontento ovviamente è una struttura corale ogni personaggio arriva fa il suo monologo nel suo monologo in qualche modo porge le chiavi della sua casa del suo appartamento delle sue stanze al lettore e lo fa entrare nelle sue vicende spesso offre anche stanze segrete tremende eccetera tutte le storie sono connesse al ritorno di questo personaggio principale a un tirante narrativo che però parla alla fine del romanzo che è il ritorno di Samuele Radi e poi va verso insomma una conclusione un rovesciamento eccetera nelle case del malcontento un bel pezzo del libro probabilmente abita nella vocalità che ho scelto insomma sono spesso richiamato a quel tipo di taglio di semantica che appartiene proprio a un pezzo proprio una geografia esteriore qui si parla della Maremma che timbra in maniera forte una geografia interiore dei personaggi nonostante insomma non abbia preso le tra virgolette vedo uscita del caso nel senso non c'è non ci sono specialmente dialoghi specialmente le voci dei personaggi non parlano in mare in mano con le tronche con tutte le inflessioni del caso noi non abbiamo un dialetto vero e proprio però sta solo l'italiamo fermo e la cosa che mi è piaciuto di più fare provare a fare nelle case del malcontento era provare a trasferire una certa mare in manità dal gioco semantico insomma delle parole dall'incastro delle parole tutto questo poi mi fa piacere quando quella mare in manità lì insomma arriva o quella marea in manità mare in manità in sé che gliene frega uno del Trentino o uno di Canicatti insomma è l'occasione per provare a raccontare il grande certe dinamiche umane diciamo universali viste da un oculare piccolo dal piccolo ossigeno è completamente un'altra voce ossigeno è un altro pianeta dal punto di vista anche un'altra velocità è un libro più agile anche dal punto di vista della violazione e il passaggio tramautico tramautico non l'è stato soltanto c'era la tentazione visti diciamo così riscontri sulle case del malcontento di restare su quella dimensione su quel refrain ecco su quel solco mentre poi alla fine no alla fine mi piace provare devo sentire mi sento più esaudito diciamo così quando mi metto alla prova in un esperimento completamente diverso l'ambiente corale in questi due libri è probabilmente un fil rouge l'ambiente corale nel senso proprio come struttura probabilmente c'è un immaginario che ricorre da qua e là anche nelle case del malcontento si parla di luoghi chiusi di gabbie di il paese stesso è una gabbia il racconto di un inconscio collettivo in qualche modo che poi appunto sfocia in un finale in un rovesciamento che porta altrove in ossigeno invece ecco la voce è calibrata specialmente nella prima parte nella parte di Luca non sappiamo bene quanto dove è geolocalizzato questo posto la cittadina potrebbe essere un posto qualsiasi del centro Italia una cittadinale del centro Italia che però poi si apre alle dimensioni alle velocità le dispersioni nel primo caso di Milano e poi addirittura alla fine in America per chi ci sta ascoltando anzi chi ci sta guardando in diretta via facebook può innanzitutto vedere le copertine dei libri che effettivamente sono molto non ci aveva mai fatto caso che le case del malcontento fossero una fossero sì arraggera ma circondano e chiudono ossigeno e dà subito l'effetto che è appunto della scatola della scatola anzi qui è anche piuttosto illuminata rispetto a quella della protagonista però fuori onda sempre chi ci guarda via facebook ha sentito che parlavamo di serialità di serie televisive e la mia domanda che ti faccio è come orchestri e soprattutto come moduli gestisci e ordini i personaggi tanti pochi nell'immaginario collettivo abbiamo lo sceneggiatore con la lavagna con i post-it tu come cosa usi? per le case del malcontento sicuramente c'è stata una complessità perché comunque sono legati cioè i personaggi sono legati alcuni per alcuni pezzi altri per altri quindi sì in realtà io sono uno che non ho scaletta quindi quindi le case del malcontento per esempio è stata una una gettata di fuga sulla su quell'obiettivo finale su quel finale che vedevo all'inizio ovviamente era una sorta di nebbia di fumo che mi sono divertito a inseguire a portare fuori dalla nebbia e questo passaggio di testimoni queste vite di personaggio in personaggio le mettevo a fuoco di personaggio in personaggio semplicemente e non mi lasciavo a tratti sorprendere dalle storie che venivano a trovarmi detto così sembra un po' trascendente ma insomma c'erano c'erano tutta una serie di spunti e di motivazioni ogni personaggio per esempio delle case del malcontento può essere identificato con un simbolo c'è il personaggio che rappresenta la coscienza c'è il personaggio che rappresenta l'autodistruzione la spiritualità e così via e così via in un percorso che poi porta alla verità finale ovviamente la gestione dei personaggi qui sulle case del malcontento si parla di 32 personaggi frontali poi ci sono i secondari quelli vengono ancora dopo ogni personaggio di quel romanzo è connesso in qualche modo al ritorno di Samuel Eradi nel vecchio borgo storie che partono addirittura anche dalla prima guerra e che poi si ripercuotono all'oggi è stato divertente arrivare a trovare tutti questi snodi trovare questo passaggio di testimoni di personaggio in personaggio anche di epoca in epoca ossigeno naturalmente è una dimensione più veloce più facile anche più calata forse nella realtà nella contemporaneità e nella realtà proprio quotidiana nel senso che noi vediamo per esempio nella parte di Luca all'inizio c'è un ragazzino che va in vacanza ci sono degli amori estivi c'è una vita diciamo normale che più è sottolineata nella sua normalità più ovviamente serve per fare diciamo per per fare l'effetto diciamo paradosso rispetto a quello che è il contrasto esatto con quello che succede poi al padre e con quello che poi succede agli altri personaggi perché poi come dicevi tu prima ci sono delle gabbie ci sono delle gabbie vere per esempio il famoso container dove Laura passa gran parte della sua vita ma ci sono anche delle gabbie gabbie mentali ci sono delle gabbie che ti ingabbiano in un ruolo in un ruolo che può essere un ruolo borghese come quello dell'antropologo un ruolo che dall'esterno è un ruolo assolutamente pulito e anzi importante ed è appunto solo un ruolo cioè ecco in quanto le gabbie reali e le gabbie invece che stanno nelle nostre teste possono interfacciarsi l'una con l'altra cioè Laura quando esce dalla gabbia non esce dalla gabbia in realtà esatto ma io credo che la gabbia più spietata che viene raccontata lì è quella di Luca che in qualche modo è sottoposto come tutti noi alla gabbia del sangue quella genetica lui a un certo punto si ritrova di fronte a quell'illuminazione lì illuminazione a quella notizia insomma il padre è il riferimento di una vita è un mostro il suo percorso interiore la sua ristrutturazione cognitiva nei confronti del mondo è molto complessa è complicata il la gabbia del sangue gli fa pensare la sua la primissima ossessione che ha è ma io sono come da qualche parte io assomiglio a lui quella tara quella quella stortura quella quell'ombra Carlo Maria Balestri arriva a pagina 2 e sparisce completamente dal romanzo ma in realtà non sparisce mai è un'assenza molto presente è un tappeto di buio che contamina tutte le vite Anna stessa la madre di Laura ha la sua gabbia che è fatta di sensi di colpa di dolore lei attraversa anche lei il suo lago di dolore la scomparsa di una bimba cerca di ricostruirsi una vita ci mette 14 anni nel momento in cui si costruisce questa sorta di santuario di cristallo intorno con un nuovo compagno una nuova vita che è una nuova gabbia in fondo è alla fine una nuova gabbia il ritorno di Laura butta giù tutto è il punto più difficile da toccare lì in quel caso è stato provare a far dire una mamma in questa dimensione delle cose forse era meglio se mia figlia non fossimo tornata brano andiamo avanti con un altro brano sì esatto io avrei gli o due sulla graticola intanto ringraziamo chi ci sta scrivendo alla 351 5241101 Silvia ma anche Naomi che ha riconosciuto Sasha in voce è arrivata in corsa ha detto ma io adoro tantissimo le case del malcontento e quindi la salutiamo e adesso ci sentiamo gli o due e questi erano gli o due la terza terza scelta del nostro ospite Sasha Naspini until the end of the world until the end of the world state ascoltando Radio Elettrica letture metropolitane stiamo parlando con Sasha Naspini di Ossigeno anche del libro precedente le case del malcontento in generale anche un po' di tutto e ci stava raccontando il perché di questa scelta musicale se l'avete sentito dalla diretta Facebook non avete sentito la canzone quindi comunque vi sarei persi un pezzo e raccontacelo di nuovo perché era bello era un bel momento innanzitutto questa canzone è una dedica mia personale profonda per Luigi Bernardi il solito di cui abbiamo parlato prima no poi gli o due sono stati un pezzo della mia adolescenza importantissimo insomma sono stati un marchio importante e a questo tour proprio lo ZU TV Tour del 90 dicevamo 2 3 si 93 fu un'esperienza devastante dal punto di vista bello delle cose a Verona Stadio Bente Godi concerto di U2 strepitoso e andate a cercare su YouTube video eccetera vediamo un po' c'era un gruppo come dicevo poco fa insomma non so se ne avete sentito parlare si chiamano Hyper Jam che in quell'occasione stavano presentando il loro primo disco che era Ten quindi furono una botta frontale una bomba atomica sul serio sotto tanti punti di vista dicevamo non solo quello musicale insomma la resa l'energia la potenza proprio rock della band ma poi era proprio tutto un movimento culturale diciamo così che si stava impossessando del mondo e tirava buttava l'aria completamente dall'altra parte ti spaccava all'osso del collo per guardare la realtà da un'altra prospettiva e a 16 anni queste cose stregavano a 16 anni vista dalla prospettiva di un 16enne di provincia dove grossomodo le cose arrivavano di luce riflessa da Firenze è un po' come essere come se quel 16enne fosse lui sul palco da un certo punto di vista perché quel mondo lì è un mondo che nasce nella provincia ma anche proprio nelle camerette nei garage e con le problematiche interiori di questi adolescenti giovanissimi e quindi in effetti vederli su un palco vederli nelle classifiche ti dà proprio la sensazione di essere tu no? sì è come se avessi conquistato qualcosa insieme a loro ho una sorpresa per voi si sente malissimo si sente malissimo questo è un viaggio nel tempo 3 3 luglio 93 Verona questi che state sentendo lontani lontani questa botta però che un po' si sente già sono i pro jam perché poi non c'era non hai idea la ripresa però è tutto c'è il concerto completo su youtube poi te lo mando grazie continuiamo a parlare di libri e se avete diciamo domande da fare a Sasha o insomma noi o interventi rispetto a quello di cui stiamo parlando c'è il 351 5241 101 oppure potete commentare sotto la diretta sui nostri social tranquillamente e Silvia lo fa è coinvolgente solo dal suo racconto mi figuro l'ho scritto esatto ma devo dire che ci sono delle forti vicinanze dal tuo modo di parlare e dal tuo modo di scrivere ovviamente non sono uguali perché sarebbe folle se uno parlasse esattamente come scrivere come un libro stampato però delle cose le sento ecco quando lo scrittore cioè quando capisci riconosci la voce dello scrittore anche nella voce reale è sempre è sempre bello e torniamo ad ossigeno i personaggi c'è un altro personaggio che è quello dell'amica di Laura che in effetti è un personaggio particolare interessante che in qualche modo fa il paio con con l'amica che si fa Laura in questi anni di chiusura di prigionia che è la bambola ovviamente stiamo parlando di una bambina una bambina da sola per tanti anni in un ambiente sconosciuto deve avere dei piccoli punti di riferimento e lei ha questa bambola che si tiene vicino che chiama anche come questa sua amica e poi invece c'è la Martina Vera che è rimasta fuori e che anche lei ha una gabbia che la stringe sì allora la dinamica di Laura dentro il cassone di ferro dentro il container è la dinamica è la storia di una ragazzina che viene in qualche modo istruita non in qualche modo che viene istruita quando Laura a 22 anni verrà trovata per caso vedremo una ragazza una giovane donna di 22 anni che conosce quattro lingue sa programmare indossa avanzato è stata istruita al mondo in qualche modo per farla breve banalizzando molto come viene detto a un certo punto del romanzo Laura potrebbe essere pronta a fare trading all'interno della gabbia il rapporto con il professor Carlo e Maria Balestri è sempre silenzioso lui gli dà delle consegne dei compiti da fare e se i compiti vengono fatti bene ci sono dei regali all'inizio si tratta di biscotti nutella eccetera eccetera a un certo punto poi cominciano i romanzi cominciano i film serie tv i tablet lei quando esce dalla gabbia la cosa che butta fuori di cervello la madre è che è completamente alfabetizzata al mondo circostante lei è scomparsa in quei 15 anni in quei tre illustri in cui il mondo è stato rivoluzionato dall'arrivo di internet poi entra nella gabbia a otto anni non ci sono gli smartphone esce e lei li sa usare alla perfezione conosce gruppi li vengono citati anche lì per gemme tra le altre cose Nick Cave che la madre non conosce la madre fa un altro percorso fuori dalla gabbia nella sua gabbia fuori dalla gabbia la bambina Martina invece si sente coinvolta e resterà schiacciata anche lei a suo modo in un'altra gabbia diversa fatta di sensi di colpa la mattina in cui Laura sparisce sono nel parchetto di questa cittadina di provincia sul mare in questo quartiere che si chiama 167 Ovest a un certo punto litigano per una stupidaggine Martina se ne va Laura rientrando sparisce nel nulla quindi lei rimane un po' agganciata a questa dinamica e dice potevo essere io potevo salvarla e così via vive in quel capitolo lampo che la riguarda all'interno del romanzo la sua ossessione di Laura è convinta di vederla spesso in giro a un certo punto la vedrà davvero una cosa che mi ha molto colpita ma anche mi ha molto commossa forse da madre probabilmente questo libro se lo leggi vabbè come tutti i libri una banalità comunque se lo leggi da ricoprendo uno dei ruoli in qualche modo ovviamente siamo tutti figli esatto quindi Luca secondo me è quello più universale è il capitolo più universale quello in cui tutti si ritrovano in qualche modo anche se non ci è successo quello che è successo a lui però ci sono magari delle domande che tutti ci facciamo sul nostro corredo genetico in qualche modo invece quello della madre devi essere madre e devo dire oppure quello di Laura devi avere una figlia in qualche modo e io infatti mi ha molto commossa avendo una figlia femmina dall'altro questo grande sbalzo diciamo questo grande contrasto fra la sua enorme formazione culturale e invece la formazione emotiva che non si forma perché è chiaro che tu non puoi formarti emotivamente non avendo relazioni con il mondo per cui mi sono immaginata come potesse essere una 22enne che è avanti totalmente avanti dal punto di vista razionale lucido e invece ingabbiata o forse ancora come se avesse otto anni dal punto di vista emotivo deve essere insomma tosta sia dal suo punto di vista che dal punto di vista della madre appunto il personaggio di Laura in realtà dentro il romanzo non è mai indagata in prima persona in realtà non sappiamo mai cosa pensa come si è costruita dal punto di vista del punto di vista emotivo della costruzione emotiva il capitolo che la riguarda nel suo viaggio all'interno della scatola il capitolo si chiama proprio la scatola preso in terza persona i bambini in questo romanzo sono raccontati in terza persona con una telecamera molto vicina però sempre in terza persona il capitolo invece che la vede in movimento in azione è fatto al tu quindi una telecamera tra virgolette sempre spostata sempre fuori da sé non sappiamo bene la vediamo solamente in azione specialmente il momento in cui lei riprende confidenza con il mondo esterno questo lo posso dire è un piccolo spoiler ma non toglie niente insomma la lettura è quando lei va a cercare ossigeno diciamo così appunto lasciandosi portare a largo prende la prima metro che le capita a tiro si lascia portare nelle periferie della città siamo a Milano imbuca il primo bar che le capita a tiro appunto sempre di petto e si chiude nei bagni il chiudersi insomma quello stampo là quel timbro che ha preso che ha che l'ha definita in qualche modo all'interno nell'esperimento del Carlo Barivalestri ha un po' la funzionalità di riprendere area all'interno di uno spazio chiuso e poi tornare fuori in apnea tutti i personaggi ossigeno insomma l'intenzione di questo titolo guarda tutti i personaggi come se ogni personaggio riguardo alla propria gabbia dovesse in qualche modo alla luce di un evento che destabilizza tutti questo tappeto di buio di cui parlavamo prima dovessero in qualche modo rimparare da capo a respirare mettiamo un'altra canzone e poi concludiamo così insomma lasciamo anche libero i suoi prossimi impegni alla giornata ministri ministri sì ministri stavolta ringrazio io Sasha per i ministri che ultimamente non tanto ma hanno fatto cose belle sì 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 io ho un problema di sopportazione del cantante mi senti io sono molto emotiva sulla musica a me se c'è uno che non ce la faccio mi dispiace va bene e stiamo parlando con Sasha Naspini ormai siamo giunti alla conclusione di questa di questa bella intervista stiamo parlando di Ossigeno il suo libro anche se poi ci sono delle cose in uscita breve è uscito un post su Instagram l'altro giorno dove firmavi delle cose no ci sono delle allora prima di tutto c'è il ritorno dei Cariolanti il romanzo del 2009 che viene rifatto sempre da io a febbraio è un romanzo con cui tengo tanto è sempre una dimensione diciamo siamo in una dimensione molto vicina a quella delle case però è un romanzo più violento più sanguigno devo leggere subito ripeto con cui tengo tanto poi ci sarà una sterzata grossa però purtroppo ancora non posso per carità hai già detto abbastanza una sterzata grossa ce lo facciamo andare bene prima hai detto che ti piace sempre cambiare un po' tutte le cartelle quindi possiamo immaginarci un libro per bambini spoil praticamente sì insomma l'hai detto era a caso era a caso è l'inizio di un'avventura per ragazzi quindi ho distrutto un contratto no oddio colpa mia chiedo scusa l'ho buttata e l'ho presa a proposito di questa visione diciamo cinematografica comunque molto visione proprio di occhi tu prima parlavi di movimenti di camera evidentemente questo tipo di approccio ce l'hai e quello che ti volevo chiedere è quali diciamo se ci sono stati riferimenti sia cinematografici ma anche di altri altri libri o quali suggestioni hanno portato ad ossigeno oltre a questa immagine iniziale che tu dici essere scatenante di tutto cos'altro c'è dentro beh immagino tutto il background mi riguarda insomma tutto quello che tutte le letture io sono un fagocitatore per esempio di serie tv trovandomi adesso a scrivere la serie tv e in sviluppo delle case del malcontento è giusto vero cerco di fare tesoro di tutti gli strumenti acquisiti anche durante lo studio barra visione delle serie tv che mi sono piaciute di più per quanto riguarda l'ambiente della narrativa beh potrei fare una una ricognizione che parte da Fenoglio probabilmente passa a Calvino arriva a King porta la Christ per sterzare verso Polanik e poi eccetera eccetera sicuramente c'è tutto un territorio un terreno che io sono un amante dal lettore di quei romanzi che mi lasciano in mano un oggetto indefinito mi lasciano in mano qualcosa che mi dice un po' anche cazzi tuoi mettilo te dove ti pare daglielo un po' a questo posto quindi questa ambiguità virale questa ricerca dell'imperfezione mi viene in mente spesso quando parlo di questi temi mi viene in mente un romanzo che ho amato che amo tuttora molto la trilogia della città di K ho citato adesso la Christophe che in qualche modo ecco riassume bene quel tipo di dimensione in cui mi è lasciato dal lettore ma ce ne sono tantissimi altri un libro che riprendo in mano spesso sono le città invisibili di Calvino un libro che mi cambia in mano al di là della mi cambia in mano di volta in volta ovviamente cambio io insomma uno specchio deformante un prisma di rifrazione bello interessante una fucilata con il libro velocissimo eccetera eccetera mi potrei citare a centinaia e di serie? diciamo prima parlavamo di Dark che secondo me un po' anche diciamo ci sta come come spirito Dark è stata in realtà la prima stagione me la sono bevuta mi è piaciuto questo esperimento che hanno fatto mi è piaciuto avere la velocità mi è piaciuto il gioco sfacciato dei flashback flash forward l'uso delle velocità proprio che ci sono in Dark nella seconda stagione devo dire la verità mi è un po' sfuggita di mano questa cosa questo gioco mi ha lasciato un po' indietro perché mi dà l'impressione di dover stare lì con il blocchetto con i punti insomma perdo la mappa quindi per rimettermi per bene impari dovrei riguardare da capo la prima stagione e rientrare e diventa per davvero un po' ti cito un po' cazzituoi forse loro è molto cazzituoi nella seconda stagione assolutamente ti mandano in culo e va bene io direi con questa conclusione Netflix mi raccomando mettiamo nelle recensioni di Dark va bene grazie mille Sasha Nesfini per essere stato con noi ossigeno pubblicato da edizioni EO le case del malcontento sempre edizioni EO i carriolanti anche erano i carriolanti in prima edizione sono di Elliot di Elliot ok e grazie mille appunto a Sasha per essere stato con noi adesso vi lasciamo con la sua ultima scelta che sono gli Smith non ti ho chiesto dei ministri di prima no i ministri sono un gruppo che mi specialmente all'inizio come diceva lui prima hanno fatto delle cose interessanti insomma una bella congiunzione tra il rock italiano che spesso risulta un po' pacchiano e cantautorato diciamo così poi gli ha sfuggito l'ego secondo me hanno certo mentre gli Smith sono proprio citati a un certo punto in ossigeno proprio questa canzone ce l'ascoltiamo allora grazie mille Sasha per essere stato con noi grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti